Siamo con Maria Elena Camerin, ex numero 41 del ranking VTA al Tennis Club Arioli, lei è tesserata per il TC Prato, oggi protagonista di una bella vittoria in singolare. Che sensazione hai avuto del match con Carla Tully? Non conoscevo Carla, mi avevano detto che giocava bene, è stata una partita sicuramente difficile, un po' per le condizioni perché da un pochino che non gioco più all'aperto, c'era parecchio sole, il campo un po' pesante perché ieri è piovuto, però ho saputo imporre il mio gioco, soprattutto anche nei momenti più critici e alla fine ho espresso un buon tennis. Anche quest'anno puntate per il titolo, siete ormai in semifinale, quindi questo è l'obiettivo, il Prato ha vinto molti allori, che team siete? C'è molto affiatamento tra voi? Sì, diciamo che è un po' l'affiatamento, è il nostro punto di forza perché ormai ci conosciamo tutte quante da diversi anni, la nostra capitana Carla Mel è il nostro punto di forza perché riesce a tenerci unite non solo durante la Serie A che dura qualche mese, ma anche durante l'anno lei ci segue nei tornei, negli allenamenti e quando può cerca sempre di creare gruppo e questo credo sia la forza di questa squadra. Sono nella memoria di tutti le tue grandi vittorie contro, possiamo citare alcune, contro la Sharapo, la Mischina, l'Ina, una grande giocatrice come te, che ricordi si porta di tutta la sua carriera? Quali sono le tue memorie più felici? Beh, sicuramente una memoria felice è le Olimpiadi di Atene dove ho vinto un turno, ho perso il secondo contro l'Amoresmo, le possibilità che ho avuto di giocare i singolari nelle Federation Cup e tra le vittorie più belle ricordo sicuramente quella al Foritalico qui a Roma contro Elena Dokic e anche agli US Open contro Safina e un anno ho battuto anche la Mischina che aveva vinto Parigi e l'Angaro quell'anno e l'ho battuta a Bali che era numero due del mondo, quindi sicuramente dei bei ricordi, delle belle vittorie che non dimenticherò mai. Magari guardando il rovescio della medaglia hai qualche rimpianto, qualcosa che magari di qualche soddisfazione che avresti potuto toglierti? Beh, sì, secondo me sono andata a 41 del mondo e in quegli anni lì ci sono rimasta poco, solo 2-3 anni dentro le prime 50-60 al mondo, purtroppo quegli anni non sono stata molto fortunata con gli allenamenti, con la gestione dei tornei, forse se avessi trovato un team più vicino a me che mi seguisse in maniera più dettagliata sicuramente avrei fatto, avrei potuto fare qualche risultatino in più e rimanere dentro a quel ranking per più tempo. Sono sei mesi che non disputi un torneo a livello ITF e ora ti stai comunque disimpegnando tra Open, Serie A e anche questo nuovo progetto, ossia una scuola di tennis a Jesolo, come nasce questo progetto appunto e che esperienze hai a contatto con i giorni dei ragazzi? Beh, questo progetto nasce con il mio primo allenatore che è Magnus Lundgren, con lui ho iniziato a tirare proprio i primi colpi a Jesolo dove abito e lui per me oltre ad essere un grande allenatore, una grandissima persona e lo considero quasi come un secondo padre, quindi ho voluto iniziare questa nuova avventura da allenatrice proprio con lui per imparare soprattutto e abbiamo creato questa scuola tennis a Jesolo dove io sono presente soprattutto d'estate perché d'inverno è un posto balneare quindi c'è poca gente, ma d'inverno ormai ho preso un accordo con la federazione dove seguirò per 20 settimane l'anno le under 18 femminile e anche le over, in più una collaborazione appunto con il mio circolo di Prato dove gioco la Serie A per una settimana al mese e seguirò la scuola tennis, quindi un grosso impegno quest'anno, cercherò anche di giocare qualche torneo perché ancora mi piace molto giocare a tennis e ho bisogno di competere e questo mi dà la forza, l'adrenalina per andare avanti, per fare questa nuova vita. Questo tuo spirito molto aggressivo ma anche simpatico ha sicuramente attirato moltissime persone, insomma molti ti amano, che messaggio vuoi dare a loro che comunque ti seguono ancora con tanto affetto? Eh sì, questo mio modo di essere rispecchia esattamente come sono fuori dal campo, non riesco a fingere quindi tutte le emozioni che ho all'esterno, anche se purtroppo ogni tanto nel tennis bisognerebbe mascherarle di più e il messaggio che voglio dare soprattutto ai giovani è quello di lavorare tanto, impegnarsi, fare sempre qualcosa di più rispetto a quello che ci viene detto e rendersi conto che chi pratica questo sport è veramente fortunato e se ne accorgerà col tempo. Abbiamo parlato prima dei giorni ragazzi che seguirai nei due circoli allargandoci un attimo del panorama nazionale, abbiamo avuto un decennio molto florido di campionesse tra cui ti includerei senza dubbio e comunque sono anche le Rani, la Pennetta, la Vinci, abbiamo possibilità anche di qualche giovane che potrà sbocciare in futuro, tu come vedi il nostro vivaio? Sicuramente abbiamo la possibilità perché diciamo che la nostra scuola italiana è un'ottima scuola e anche tecnicamente girando il mondo si vede che gli italiani fanno la differenza tante volte, il problema secondo me è sotto il punto di vista mentale dove viviamo in un bel paese quindi ci adagiamo molto e appunto il supporto che darò io come allenatrice oltre sicuramente al fattore tecnico e soprattutto mentale dove voglio convincere, far credere veramente perché è così a ogni mio singolo atleta che nonostante anche uno non sia meno dotato di qualcun altro con la testa e il lavoro ci si può arrivare. Hai rispettato poi quella scommessa che hai fatto con Flavia Pennetta? Cavolo non glielo ricordare per favore speriamo non ascolti questa intervista, ancora non l'ho rispettata perché l'ho vista soltanto un giorno di sfuggita e faceva anche freschino e quindi ho cercato di deviare quindi sono sicura che conoscendola me la farà pagare fino alla fine e adesso aspettiamo l'arrivo dell'estate e sicuramente dovrò farla. Ricordiamo che appunto la scommessa era del fatto che se Flavia avesse vinto gli US Open Marianne avrebbe dovuto mettersi in bikini davanti al Duomo quindi appunto con l'estate magari Flavia tornerà a parlare di questo e bisognerà rispettare il tutto. Ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai concesso. Grazie a voi, grazie del tifo e del supporto anche di oggi. Da Roma è tutto per Tennis Press Alessandro. Grazie a voi, grazie a voi.